test di registrazione video in full hd da oppo f1 camera da 13 megapixel proviamo un cambiamento di luce zoomiamo fino a 4 per qualità dell'immagine tutto sommato accettabile vediamo anche la stabilizzazione del video che anch'essa sembra essere buona spostiamoci invece sulla pianta per vedere un po la messa a fuoco qui da vicino che lascia leggermente a desiderare tra l'altro non vi è la possibilità di mettere a fuoco manualmente durante la registrazione video anzi diciamo che funziona a random la messa a fuoco manuale durante la registrazione per cui comunque un video che viene proprio da oppo f1 in una qualità comunque piuttosto buona vi ricordo full hd per oppo f1